2.500 persone si sono già iscritte per partecipare alla cerimonia di beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti che si terrà il 6 giugno a Chiavenna a partire dalle 16, a 21 anni esatti, dal suo tragico martirio. La liturgia prevede un'eucaristia presieduta dal prefetto della congregazione dei Santi, Cardinal Semeraro, che sarà presente qui a Chiavenna con diversi vescovi e con la popolazione che si è iscritta a questo evento. Noi abbiamo preparato già da mesi, da quasi un anno, un sito beatasuormarialaura.it dove lasciamo comunicazioni sia per prepararsi a questo evento di grazia con momenti di preghiera, con momenti di riflessione, ma anche abbiamo preparato una sorta di itinerario sull'intero percorso che Suor Maria Laura ha vissuto su questa terra. Possiamo ripercorrere insieme alcuni di questi luoghi per dare un'anticipazione? Sì, vieni, ti accompagno e percorriamo insieme questi passi. È qui che viveva Suor Maria Laura? Sì, viveva qua con le sue consorelle e questo era il cortile dell'asilo, ma anche il cortile delle ragazze dove molte volte lei incontrava e con cui parlava. E sarà una delle tappe durante il giorno della cerimonia? Certamente, ma è già adesso un luogo di pellegrinaggio, soprattutto la sua stanza e il luogo dove lei viveva. E dal luogo in cui ha vissuto, in cui quella notte ricevette la chiamata che la condusse fuori dalle mura del convento per rispondere, così credeva ad una richiesta di aiuto, ci spostiamo in via Poiatengo. Qui probabilmente Suor Maria Laura, insieme a una ragazza, ha avviato questo primo percorso verso il luogo che lei non sapeva di morte. E la tappa finale dell'itinerario è il luogo della sepoltura, nella cappella di San Giovanni Nepomuceno, in una delle navate laterali della collegiata di San Lorenzo. Qui si può cogliere il valore più profondo dell'evento. Questi luoghi adesso a noi parlano, parlano non solo di una morte, ma di una vita donata. Anche se dietro c'era un disegno diabolico, per noi questo disegno è diventato un disegno di bene, che è partito proprio da queste vie, da questi luoghi.